Ciao a tutti, ben ritrovati su Fumetti e Parole, io sono Igor e oggi facciamo un video veramente difficile, e sì, perché in mano ho il mio primo Ennis. Discesa all'inferno, scritto appunto da Garth Ennis, disegnato da Goran Suzuka. Un volume veramente, veramente difficile, almeno a mio modo di vedere, non è un volume semplicissimo. Mi è stato consigliato, non in maniera diretta, ma in diretta nei suoi video, dal buon Dili, dall'altro fumetto, perché è uno di tanti volumi che lui ha acquistato, che ha suggerito, soprattutto in occasione dello sconto del 20%, che avviene tutti gli anni, sul sito della Saldapresse. Io in realtà ne ho approfittato a Lucca Comics, lo sconto che ho avuto è il medesimo, però ho voluto aspettare un po', quindi un mesetto prima di poter acquistare questo volume. Diciamo che è un bel cartonato, ok? Stiamo parlando di 29,90, anzi questo in realtà l'ho pagato 20 euro, perché ho preso un'altra roba, ho fatto un po' un casino, però comunque quasi 30 euro. È un omnibus perché in realtà va a raccogliere più volumetti, consiglio ovviamente di andare a prendere questa edizione e mai voleste recuperarlo. Oppure nel mondo dell'usato è possibile che troviate anche delle altre edizioni. Questa è fatta bene, questa è fatta bene perché è bella grande, circa una quattro più o meno, quasi 30 centimetri, una ventina. Sì, un po' di meno insomma, giù di lì. In più ha delle pagine super iper patinate, lucidissime, e il disegno, ma soprattutto il colore, esce fuori dalla grande, anzi, mi perdoni chi si è occupato di colori, non l'ho nominato, ma è Yves Svorzina, veramente veramente bravo, perché ho visto in fondo, così vi dico anche degli extra che ci sono in fondo al volume, ecco, ci sono dei riferimenti alla sceneggiatura. Quindi abbiamo la scrittura del buon Ennis, poi i primi storyboard, abbiamo poi la tavola praticamente terminata in bianco e nero, ed infine il colore. Beh, non vi nascondo che il bianco e nero fa la sua porca figura, ma il colore gli dà una botta di vita pazzesca, quindi consigliatissimo l'acquisto di questo volume in questo formato anche per la grandezza delle tavole, piuttosto che per la lucentezza delle stesse. Ci sono dei ritratti venuti veramente veramente bene, i disegni sono bellissimi, me ne prendo una a caso, perché mi dà l'occasione per dire che questo è un volume horror, o comunque angoscioso, ti mette veramente paura. Non è l'unica cosa, l'unico sentimento che uno prova nel momento in cui legge una roba di questo tipo, ok? Perché Gat Ennis è veramente bravissimo, bravissimo. La sceneggiatura non è assolutamente semplice. Sebbene il soggetto non sia così arzigogolato, è neanche troppo originale, o meglio io fra qualche altro volume, perdonatemi il male di gola non andrà mai via, me lo porterò tutto il 2022, comunque, tornando a noi, qualche film, piuttosto che qualche altro volume, ho percepito la presenza, ecco, del male, la raffigurazione del male, l'impersonificazione del male, perché di questo stiamo parlando. Quindi non è la cosa più originale del mondo, ma la sceneggiatura, ragazzi, è fatta veramente da Dio. Molto complicato in realtà, leggere in maniera disattenta questo volume. Perché c'è un continuo rimando all'avvenimento del passato. Perché dico che è bravissimo? Perché manovrare, gestire, rendere accattivante una sceneggiatura di questo tipo non è da tutti. Mi metto io a farlo, probabilmente il risultato farebbe schifo, nonostante possa partire da un soggetto perfettamente limpido nella mia testa. Ecco, lui è stato veramente molto molto bravo. Vi faccio vedere un'altra scena che ho adorato, che è la seguente. E sì, perché parliamo di un poliziesco, sostanzialmente. Ci sono principalmente due personaggi protagonisti che devono trovare un pedofilo. E già qui le cose si complicano, perché toccare un argomento così sensibile non è facile. Gart Tennis non la sa toccare piano, la tocca veramente veramente tosta. Quindi scende fino nell'anima delle persone, ti tira un calcio nel culo e ti fa capire quanto la pedofilia sia una merda. Ed è giusto che sia così, ma non tutti sono bravi come lui a farlo. Quindi sostanzialmente vanno alla ricerca di un pedofilo. Qual è la questione? Che fino a quel momento, in realtà si stava indagando su tantissimi rapimenti e qualche raro ritrovamento di bambini, sì, immaginando che sia tutto quanto scollegato. In realtà la nostra protagonista, che ha le palle sotto, capisce che tutti questi evenimenti possono essere, anzi, devono essere, accumunati. E quindi sostanzialmente manda in vacca tutto quello che è stato generato come indagine, quindi anche una quantità di investimenti notevolissima, per rimettere in gioco tutto quanto, rimettere in discussione tutte le indagini fatte. Bene, si ricomincia sostanzialmente da capo e da qui in poi parte il fumetto. Quindi, fidatevi, non vi ho raccontato praticamente nulla. Non è semplice raccontare questo volume, perché al di là della trama, appunto, questa sceneggiatura gioca un po' a ping pong, con la tua mente. Quindi se non sei pronto a leggere una roba di questo tipo, posala sul comodino, riprendila il giorno dopo. Non ho dubbi su questo, è assolutamente fondamentale che ci sia la massima concentrazione. Vediamo che cosa nella quarta di copertina ci scrive l'autore. Il male ha mille forme, quindi il riferimento al male è esplicito. Non me lo sono inventato e non è così spoilerante. Gli agenti speciali Shaw e McGregor, sono i due protagonisti di cui parlavo prima, entrano in un magazzino di Long Beach, per finire immersi in una realtà distorta, perduti in una dimensione completamente governata dall'orrore. e lasciandosi alle spalle qualunque forma di normalità, a ogni nuovo passo diventa loro più chiaro quanto sia smisurato l'incubo in cui sono precipitati, intuendo infine quanto antichi peccati e vecchie menzogne che continuano a essere raccontate possano rischiare di provocare una nuova, terrificante, alba infernale per tutti gli uomini. Un po' esagerato, ok? Anche questo titolo, discesa all'inferno, mi sembra un po' troppo pomposo, però comunque ci sta, perché il male personificato nell'uomo può arrivare anche a toccare la percezione infernale, ok? Si raccontano delle schifezze, delle aberrazioni incredibili. Come detto, Gartennis non la sa toccare piano, va giù, dritto, ok? Se ha un coltello in mano, non lo affonda lentamente nella ferita del suo assassino. No, 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 ci sguazza, distrugge tutto quello che ha di fronte. E così, e così sta facendo, ha fatto in questo volume, pardon. Qual è la, diciamo, il messaggio principale? Io ho percepito, oltre alla voglia di raccontare quanto il male debba essere lontano dai nostri giorni, ho percepito una denuncia sociale esagerata. Cioè lui, Trump, lo trama testa, lo trama, scusate, lo chiama a testa di cazzo, cioè non è che ci va piano, veramente va dritto, chiaro, mette queste parole in bocca a Shaw, McGregor, piuttosto che ad altri comprimari, ma alla fine di questo sta parlando. È una politica corrotta, devastata, e la Los Angeles da lui raccontata è praticamente alla frutta, ok? E alla Macedonia della sopportazione. Mi sono segnato alcune parole che voglio passarvi, non voglio assolutamente dimenticarmi, perché ci sono dei concetti veramente tosti. Quindi la denuncia sociale, governo Trump, ma non solo obiettivamente, parla quindi di corruzione, insabbiamento, odio razziale, esce fuori in maniera esagerata, anche in maniera scherzata se volete, ma il bianco e nero sono veramente in contraddizione continua. Anche in retroscena, e non solo nella polizia, non solo espliciti, ma anche in maniera indiretta escono fuori questi concetti. Diffusione delle armi, la prima pagina è, durante la vigilia di Natale, un omicidio, la seconda, vabbè, la seconda pagina è un omicidio, quindi tutti gaiosi, contenti, sorridenti, volti, pagina, e già l'universo raccontato da Gar Tennis scoppia, esplode, grazie, o meglio, a causa della diffusione folle che in America c'è delle armi. E questa cosa viene raccontata più e più volte. L'omosessualità, adesso non vi racconto chi, perché questo sì che per me è un valore del volume, e non voglio raccontarvelo, ma viene espresso fortemente il valore di poter essere se stessi in una società che invece non ti accetta. Questa cosa è veramente uno schiaffo, un calcio nel culo che solo Gar Tennis sa dare. Pedofilia, ovviamente, insomma, bisogna ricercare un pedofilo, quindi la pedofilia viene più e più volte rimessa in discussione. E poi femminicidi, sì, perché comunque ciò che c'è nelle case degli americani, ma attenzione, lo sappiamo, anche nelle nostre case è spesso un dramma. Questo viene gestito da molti nella maniera corretta, cercando di voltare pagina, cercando di essere positivi, in altre situazioni dove c'è ignoranza, povertà, è veramente complicato. Non sto giustificando nulla, assolutamente, tutti in gattabuia e non solo dovrebbero finire quelli che si osano anche solo a toccare una donna, ma comunque in quegli ambienti sudici è più facile purtroppo che avvengano delle oscenità come quelle. E qui vengono toccate. Insomma, questo volume non è per tutti, cioè non è che un bambino, un ragazzotto di 15 anni legge questo volume e gode, o meglio, potrebbe leggerlo in maniera superficiale, godere delle immagini fighissime, ridere per alcune scene che a me non hanno fatto per niente ridere, ma secondo me, non voglio essere presuntuoso, ma non riuscirebbe a capire esattamente quello che è il messaggio che Carl Tennis vuole comunicare. So che sto mettendo un'enfasi pazzesca perché mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Ero molto in dubbio, attenzione, perché se volete il finale mi ha lasciato veramente a bocca aperta, cioè mi ha lasciato con un... e quindi... e quindi... ve lo giuro, così, sono andato indietro e ho detto mi sono perso in particolare, lo rileggo, eppure non capivo. Attenzione, perché non c'è per forza un'azione e reazione, non c'è un qualcosa che avviene e un qualcosa che di conseguenza cambia, muta, eccetera, eccetera. C'è una spiegazione, se volete, c'è un contesto, c'è una situazione di malessere, e questo, il finale, sostanzialmente, è farti rimanere di merda. E ce l'hai fatta, Gart, ce l'hai fatta, sei il mio primo Emmys, quindi grazie a dirvi per avermi suggerito questo volume, io lo suggerisco a voi, ovviamente. Se volete sapere in 4-5 parole chi è Gartennis, vabbè, su Wikipedia vi raccontano la rava e la fava, ma io vi dico che è uno degli unici, che ho potuto vedere, insomma, Asano ogni tanto mi fa percepire lo stesso livello di scrittura, ma soltanto lui riesce a essere, anche qui, leggo le paroline che mi sono segnato, diretto, dissacrante, esplicito, crudo, cattivo, ma anche vero, trasparente, sincero, non te la racconta. Wow, che bomba ragazzi. Se l'avete comprato fatemi sapere cosa ne pensate, questa volta sono veramente curioso. Grazie di essere arrivati fino qui, vi do appuntamento, al prossimo video ci leggiamo nei commenti. Ciao.